Poi prendiamo il nostro cuore di cristallo e facciamo la stessa cosa. E poi prendiamo un'altra rondella così e concludiamo il cuore. Un po' per spezzare, mettiamo questo cuore e poi ricominciamo. Poi prendo una collana che ho già e la misuro. Per vedere più o meno. Ecco, se la vogliamo corta, già così va bene. Perché sennò poi diventa anche pesante a mio avviso portarla sul collo. Non so che si va bene. Ok. Quindi, alla fine, facciamo la stessa cosa. Quindi, prendiamo uno schiaccino e andiamo a fissare il nostro lavoro. Allora, vi faccio rivedere il passaggio. Allora, intanto questo filo in eccesso lo tagliamo. Facciamo sempre il nostro cappietto, ci aiutiamo con le pinze. Ok. 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 Allora, potete anche aiutarvi con le dita. Allora, adesso vedete che è un'altra cosa. è avanzato, troppo filo, quindi ne taglio un altro po'. Ecco, quindi più o meno questo cappietto deve essere della dimensione dell'altro. no? Quindi, lo dobbiamo rimpicciolire. ecco così, è perfetto. Allora, le perle non devono essere troppo strette tra di loro, ma nemmeno troppo larghe. se no, diciamo, ballano. Quindi, prendiamo la pinza per schiaccini e schiacciamo. poi rischiacciamo con il secondo foro, come prima, come abbiamo fatto prima. ecco così. e creiamo questa asolina. dopodiché mettiamo il copri schiaccino, quindi dobbiamo lasciare un po' di spazio comunque, no? per il copri schiaccino, un millimetro e chiudiamo con la pinza. facendo attenzione a non rigare la perla e a non rigare anche il copri schiaccino. e avremo questa chiusura. e terminiamo con la chiusura. Allora, ci servirà un moschettone, come questo, degli anellini, come questi, e, 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 ecco, e anche, una catenella, come questa. e, e, facendo, e, 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 e infiliamo la catenina, poi questo anellino lo posizioniamo dentro l'asola che abbiamo creato e richiudiamo con lo stesso movimento. Vedete già abbiamo creato la prima parte terminale della nostra collana, poi prendiamo un altro anellino e lo posizioniamo dall'altro lato, infine prendiamo il moschettone e lo mettiamo dentro l'anellino e richiudiamo, sempre con quel movimento. Ecco ragazze, la collana è finita, adesso provo ad indossarla ok. Spero che questo video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto mettete un pollice in su, io ho un blog che si chiama vanillasky.blogspot.it, se vi va passate a trovarmi e lì potrete trovare le mie creazioni, parte delle mie creazioni ci vediamo al prossimo video, un bacio, ciao!